Ottima gara, ben giocata, bravi anche gli avversari, primo tempo un po' più equilibrato, dove siamo andati anche sotto per un regalo, poi abbiamo pareggiato quasi subito, abbiamo sbagliato qualche palla gol di troppo nel primo tempo, mentre nel secondo sia dal punto di vista atletico che grazie ai cambi che abbiamo inserito non c'è stata quasi più partita, abbiamo fatto altri tre gol, abbiamo vinto 4 a 1 ma altrettanti almeno ne abbiamo sbagliati in maniera clamorosa, due traverse e via, insomma un rigore per loro sbagliato, comunque è una prestazione più che buona, complimenti ai ragazzi, veramente bene oggi.